come ha fatto a non vedermi mi ha laggato sono bloccato allora riproviamo un attimo io potevo fare una roba così ma sta reccando ok all'improvviso mi ha bloccato va bene andiamo diciamo così no proviamo così e a questo punto lo faccio così ti uccido la guardia a fianco ok poi una roba così come hai fatto a non accorgertene sta una rete mi vedi ciao ciao niente non se ne accorge va bene allora ammazziamo questo così no perché mi serve che ok credo che io debba fare una roba così allora la la devo mandare la zietta quindi ok che tu stai la mi va pure bene poi devo fare una roba così no perché poi l'ha ucciso devo farla andare sulla trappola abbiamo così ok rimetti la io questo lo butto giù poi faccio così no dobbiamo fare così ok fantastico se io gli uccido la compagna dietro cioè mi sape un po di paura te la metti giusto ottimo e poi tra l'altro la sta uccidendo con un righello no jason 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 zombie è un dicio male odorante è letale mi piace proviamo a togliere la maschera a questo jason ah tipo zombie va bene ma adesso andiamo con jason zombie mi piace scusate ci sono i tuoni salpa la crociera degli studenti di crystal lake ok c'era jason sulla nave no no raga jason è attaccato dall'ancora no ti prego di domini di no come hanno fatto a non accorgersene jason è ancora nel collo vabbè o ce l'hanno aperto oh mi hanno dato un braccio i telefoni distraerranno quelle persone disgustose jason fagli squillare come ah se tocca un telefono squilla quell'altro ok quindi faccio così ti uccido con il mio braccio mi sta laggando poi attivo quest'altro telefono tu mi vai là e ti uccido questo dietro va bene ci sta prendilo jason eeeh nuovo battitore di baseball ragazzi attenzione ok navigazione senza controllo la nave si sta muovendo soffro di mal di mare sai jason ok mamma quel poliziotto è troppo stupido per te jason non usa il telefono per distrarlo ok quindi facciamo così tu mi vai là poi faccio così non attiro nessuno perché ci sta non arriva il telefono va bene poi faccio una roba così tu vai là bravo quanto sei intelligente eh uuh nuovo sport olimpionico lancio del braccio e adesso uccidi l'ultimo tizio eeeh papà l'ho mancato l'ho mancato l'ho mancato va bene questo è jason il ponte inferiore quando arriviamo a new york sembra di stare su questa nave da un'eternità scusa mamma vedi la vittima in mezzo alla stanza jason falla saltare dallo spavento la mamma vuole vederla correre ok quindi faccio una roba così vai ottimo poi gli uccido quel poliziotto a fianco lui corre ancora verso di là si jason se magari giri bravo poi facciamo così così ma guardi l'angina corta si è visto dietro uccidiamo la tizia easy e poi ultimo detenuto mi pare di avere detto detenuto va bene a te ti prendo vabbè se le serve un braccio io ce l'ho ok andiamo avanti massacro nel salone ottimo quanto manca ancora perché ho letto ottimo non è una buona idea lasciare che quel tipo a sinistra risponda al telefono jason quella tipa a sinistra quindi non gli devo far suonare il telefono allora faccio così faccio suonare quell'altro ah non lo sente perché ci ho fatto andare il coso davanti eh ma sono costretto a farlo andare eh quindi niente devo fare così non devo sbattere contro il telefono se no risponde la tizia cioè questa qua si è presa 37 infarti oh e basta eh proviamo magari lei va là poi ti uccido così un po' così ah e perché mi ha detto che non doveva rispondere al telefono scusa faccio rispondere e faccio così madre mi vuoi buggerare vabbè oh l'ho presa di striscio pam in mezzo alle tette non vorrei dire eh inseriamo la cassa adesso no ancora no attenzione al porto va bene oh questo è in new york ha un odore strano o sei forse tu jason scusa mamma la mamma dice che che devi far squillare il telefono sulla destra ma forse è meglio se fai il giro largo va bene ok il telefono sulla destra però devo fare un giro largo va bene poi faccio così e allora poi faccio così no faccio così tu mi vai là io ti faccio sto giro così boom minchia che brutta fine ah ancora vivo ha finta di essere morto no jason no jason non lo fare dai ma ti potevi alzare è già giarello ultima signora vabbè uccidiamola easy e addirittura signora le serviva una mano ecco a lei livello su lasciate stare sempre la grammatica over 9000 noi ci apriamo questa bella cassa giavellotto lo mettiamo ariete da sfondamento anzi mettiamo questa va bene strade squallide ragazzi però questo livello lo faremo nel prossimo video tra l'altro c'è anche un gattino jason non fare del mare al gattino so che sei un bambino gentile certo va bene nel prossimo video faremo questo livello ciao ragazzi